Ben trovati queste le principali notizie di oggi spaccio e estorsioni alle aziende agricole dieci arresti dal nord al sud Salento dal Brindisino alle Cese. Scu condanna definitiva per il clan Brandi il clan di Brindisini dagli anni novanta. Rapina nel mobilificio nel giorno dell'antivigilia di Natale a Francavilla Fontana c'è un arresto un'altra persona ricercata e si cercano altri due complici. Dal video virale alla querela mia madre non ha abbandonato i rifiuti mentre il video girato a Torre Pali che ritraeva una signora che starebbe buttando dell'immondizia in campagna diventa virale e interviene la figlia. Nuovo sbarco di migranti a Torre Colimena sono 83 ci sono 12 bambini e stanno tutti bene. Educatore socio pedagogico corso intensivo di formazione presentato ieri a Lecce dall'Università del Salento insieme all'assessore regionale Sebastiano Leo. Dopo Mambo Salentino arriva Cautus Salentino la nuovissima parodia di Piero Ciacchi e la sua grande famiglia ve la mostriamo in anteprima da domani sarà sul web. Per lo sport via del mare in conferenza stampa oggi il presidente Sticchi Damiani ha illustrato il progetto dello stadio pensato dalla società giallorossa dipende però dal sindaco Salvemini il tabellone intanto tornerà sulla tribuna est. E tutto vi ricordo che le nostre notizie sempre aggiornate sono su teleramanews.it e sui nostri social. Arrivederci.